C'è fermento nel centrodestra di San Giustino, è stata presentata lo scorso consiglio comunale Vivere San Giustino, il nuovo gruppo consigliare a cui hanno aderito tre esponenti del centrodestra, Corrado Belloni. È una spaccatura interna al centrodestra? Sono movimenti normali visto che fra un anno e poco più ci sarà la campagna elettorale oppure nulla è cambiato? Allora innanzitutto nulla è cambiato, è solamente una scelta di tre esponenti in vista dell'imminente elezione del prossimo anno che hanno deciso di fare questo movimento per coinvolgere altre persone al di fuori della politica. Fra di noi il rapporto rimane quello che è sempre stato, un ottimo rapporto di collaborazione. Lei in tutti questi anni si è distinto per alcune battaglie portate avanti con grande impegno, collocandola in un ipotetico nuovo parlamentino. Lei è uno che rimarrà nel centrodestra oppure inizierà a guardarsi intorno? Io quando sono sceso in campo il mio unico intento era quello di far del bene alla mia comunità, cercare di trasmettere l'amore che ho per il mio territorio in qualcosa di concreto. Negli anni mi sono sempre impegnato in vari modi per riuscire a fare qualcosa di tangibile, l'ho fatto, ho cercato di farlo anche con la discesa in campo nell'amministrazione comunale. Penso di aver realizzato qualcosa per il mio territorio con il mio impegno, altro volevo fare, non ci sono riuscito anche se ancora per un altro anno ci proverò. Per quello che è il futuro io mi guarderò intorno perché se il mio intento è quello di far bene voglio vedere se posso sposare un progetto che porterà dei vantaggi alla collettività sangiustinese. Le prossime elezioni, dicono i rumors elettorali, potrebbero essere quelle delle liste civiche a discapito dei partiti tradizionali. Lei che da sempre milita in un partito di protesta, come la vede? Potrebbe essere concorrenza? Ma no, non lo vedo così perché innanzitutto la nostra lista di centrodestra per San Giustino è una lista civica nella quale io quattro anni fa feci confluire delle persone, me comprese, prese nella società civile. Il fatto di appartenere a un partito secondo me era solamente l'uso della politica come mezzo per raggiungere prima degli obiettivi, quindi non penso che la creazione delle liste civiche crei problemi perché alla fine chi ha scelto Corrado Belloni o chi lo vorrà scegliere per cercare di migliorare il proprio territorio lo fa non per l'appartenenza a quel simbolo accanto al mio nome ma per la fiducia che ripone nei miei confronti. Un'ultima breve domanda a Belloni, guardando più in là, guardando agli affari della coalizione di centro-sinistra, ci sembra che il Partito Democratico sia un po' penalizzato da quello che succede al Partito Democratico italiano. C'è diciamo una lotta interna tra Renziani e Bersaniani, questo ci sembra di capire ci sia anche nel parlamentino san giustinese e più ad ampio raggio in Alto Tevere, concorda? Sì, nei miei tre anni e mezzo di esperienza ho sempre visto la maggioranza del Comune San Giustino molto divisa, litigiosa, mai compatta negli argomenti, i trattati solamente per ragion di Stato, poi alla fine quando si trattava di votare a denti stretti votavano, ma più di una volta il parlamentino san giustino ha rischiato la capitolazione, proprio giù per le scale del Comune si sono trovate accordi per non farlo capitolare. Grazie